Ciao, ho tre domande per te. Buonasera. Buonasera. La prima domanda è questa. C'è qualcosa che davvero ti fa innervosire? Non sopporto. Quando dico qualcosa le persone non mi ascoltano. Trovano sempre un altro modo per fare le cose che devono fare senza darmi retta. Beh, allora di contro vorrei sapere una cosa che invece ti riempie di gioia. Una cosa che mi riempie di gioia? Oh, il mio gatto. Mi piacciono molto gli animali e le cose strane. Tipo la natura, le cose che vedo di solito nel giardino. Ottimo. E se potessi avere un vestito, il più bello che tu puoi immaginare, come lo vorresti? Ah, lo vorrei... Lo vorrei azzurro, lungo e una bella gonna pomposa. E poi riceverei tutti i miei ospiti con tutti i loro animaletti. E sarebbe un vestito anche con dei pizzi. Ti ringrazio molto per le risposte. Arrivederci. Arrivederci.